Nel nome di Don Giorgio Giorgetti. In via Bovio è stata inaugurata oggi Casa Don Giorgio, un appartamento di proprietà della parrocchia di San Cassiano, ristrutturato e concesso in comodato d'uso alla Caritas per diventare un luogo d'accoglienza capace di dare un tetto a sette persone in stato di povertà. Un'opera che ricalca pieno l'esistenza di Don Giorgio, scomparso sei anni fa dopo una vita alla guida della parrocchia di San Cassiano e della Caritas Diocesana, spesa sempre al fianco dei più fragili. Casa Don Giorgio nasce nella logica di dare e di continuare a dare una risposta al tema dell'emergenza abitativa delle persone, chiaramente un'opera a segno che ha un grande significato in continuità con ciò che Don Giorgio Giorgetti ha cercato di realizzare in questa casa. Noi abbiamo provveduto in accordo con la comunità parrocchiale di San Cassiano alla ristrutturazione di quest'ambiente per poter accogliere sette persone. Già sono state, non dico scelte, concordate quattro ingressi, quattro accessi a questa casa nella logica di una fase di accoglienza a un livello un po' più alto rispetto ai bisogni delle persone, nel senso che sono quattro persone che da un po' di tempo sono accompagnate da Caritas di Ocesana e assieme alle quali si intende dare un futuro più dignitoso, un futuro più fiducioso per queste persone. Questa opera è un piccolo segno di attenzione di una comunità nel poter garantire ai meno fortunati un tetto, un riparo. Direi che questo fa parte di uno di quei diritti dell'uomo, celebriamo fra pochi giorni il 75esimo anniversario della dichiarazione anniversaria dei diritti dell'uomo e credo che il diritto ad avere un tetto, un riparo sia un diritto fondamentale. Davvero un bellissimo progetto, Don Giorgio era un parroco completamente a servizio della comunità, dei più deboli, dei più fragili. Tutto il giorno lavorava come un pazzo per provare ad aiutare coloro che ne avevano bisogno. Dedicare questo intervento nella parrocchia di San Cassiano a lui è davvero bello, sono qua per questo e anche per ringraziare la Caritas e tutte le aziende che hanno contribuito per questo luogo che sarà un luogo importante per tante persone che non hanno fissa dimora, che hanno difficoltà abitative per un periodo della loro vita, in particolar modo adesso che arriva l'inverno. Quindi un bellissimo intervento e credo che Don Giorgio sarà molto contento di vedere dall'alto quello che è stato fatto in suo nome. La realizzazione di Casa Don Giorgio è stata resa possibile grazie alla generosità della fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e di aziende del territorio quali Scavolini, BS e LC Mobili. Abbiamo appena fatto una fondazione degli imprenditori per cercare di allargare le risorse per queste iniziative in modo che tutti, come ha detto il Vescovo, nella benedizione possano in ogni caso avere una casa come abbiamo tutti.